Buongiorno a tutti, intanto volevo ringraziare nuovamente Federanziani e SIC Sanità per collaborare e averci dato l'opportunità di collaborare a questi due centri universitari, tra l'altro vi porto i saluti anche del collega Cicchetti con il quale commentiamo ormai da 3-4 anni alcuni capitoli del SIC Sanità. Quindi volevo ringraziarli per questa opportunità perché ci permette al di là dei rapporti che pubblichiamo nei nostri centri di ricerca che però contengono delle analisi differenti rispetto a queste, quindi ci danno anche l'opportunità di poter analizzare uno spaccato più a livello generalizzato della situazione sanitaria che abbiamo nel nostro Paese a livello di dati sanitari. Dovrei aver capito come funziona, speriamo. Sì, perfetto. Un ultimo ringraziamento, sono contento chiaramente di avere il mio rettore qua presente, colgo l'occasione per ringraziarlo perché in anni passati, tantissimi anni fa ha sempre sostenuto all'interno dell'università, pur stando in una facoltà differente che era medicina, però il centro nostro di ricerca di economia sanitaria, la facoltà di economia premeva anche ringraziare il nostro rettore. Andiamo un po' nello specifico, non cercherò di sciorinare tutta una serie di dati che tanto ce l'avete sotto mano all'interno del volume e del comunicato stampa, però dai dati presenti nel SIC sanità è importante sottolineare alcuni aspetti. Ho voluto presentare queste slide oggi proprio con questo obiettivo. Il primo aspetto importante e soprattutto qual è il background e la motivazione che mi ha portato a organizzare la presentazione in questo modo è che come vedete scritto sopra il problema importante del nostro sistema sanitario nazionale come di tutti i sistemi sanitari nazionali finanziati con la fiscalità generale è quello relativo ai costi del servizio stesso. Perché se non riusciamo a controllare correttamente i costi difficilmente riusciamo a raggiungere quella famosa efficienza allocativa e quindi a rendere anche sostenibile la spesa sanitaria. Quindi comprendere come vi ho evidenziato in particolare, non so bene qual è adesso l'evidenziatore, eccolo qua, comprendere il dettaglio se le risorse scarse, scarse vuol dire in economia che non sono illimitate, che non sono sufficienti, vengono utilizzate in maniera efficiente diviene il passaggio imprescindibile e questo è anche il motivo per cui si pubblicano volumi tipo il SIC sanità o piuttosto anche altri rapporti che si occupano dell'analisi del sistema sanitario. Quindi l'efficienza noi la dobbiamo intendere come efficienza allocativa, quindi capire se siamo in grado di utilizzare nel miglior modo possibile le risorse che abbiamo a disposizione. Però diviene importante vedere qual è la struttura e la natura dei costi della sanità affinché si possa raggiungere un livello di efficienza allocativa all'interno del sistema e quindi raggiungere la massimizzazione del risultato della minimizzazione dei costi. E questo è proprio quello che si effettua utilizzando, effettuando delle analisi all'interno, come sono state fatte ad esempio all'interno del SIC sanità. Quindi disporre di banche dati complete che permettano interazioni tra le diverse fonti dei costi della sanità è uno strumento fondamentale. Tra l'altro due anni fa abbiamo proprio sviluppato uno studio per la presidenza del Consiglio dove abbiamo analizzato la struttura dei dati della sanità in Italia. E sono venuti fuori degli aspetti abbastanza preoccupanti nel senso che i dati ci sono, sono tanti, potrebbero essere completi, purtroppo non si riesce a farli dialogare tra di loro perché gli indicatori che vengono utilizzati a volte non permettono un incrocio dei dati stessi. Quindi andrebbe migliorato il sistema di raccolta dati e soprattutto il sistema di informatizzazione del dato perché il dato in realtà poi c'è. Seguiamo i vari punti generali che possono interessare e che sono venuti fuori dall'analisi dei dati del SIC, quelli un po' più secondo me importanti dal punto di vista della sostenibilità del sistema. Partiamo dalla spesa in termini generali. Sembra che sia un dato conosciuto da tutti, in realtà ogni volta che lo presento e quando sento parlare anche i responsabili sembra che non lo conoscano, i responsabili del settore, ma in realtà l'intervento pubblico in termini quantitativi in Italia, ho scritto quindi la spesa totale, è in linea con i livelli europei. Noi siamo intorno al 76,5% della spesa totale, quella pubblica, spesa sanitaria pubblica sulla spesa totale. In termini percentuali sul PIR tra l'altro l'incidenza in Italia è stata fino verso i metà anni 2000, verso 2004-2005 intorno al 6,6%, poi è leggermente cresciuta intorno al 7% l'ultimo anno e dovrebbe in teoria crescere fino al 7,4% quest'anno. Ma questa crescita non è dovuta a una crescita reale, è dovuta al fatto che siccome stiamo parlando di spesa sul PIL c'è stata una scarsa crescita del PIL e quindi sembra che la spesa sia cresciuta. In realtà non è così nei fatti concreti. E quindi quando si dice spendiamo troppo, la spesa non è fuori controllo, non è vero e torniamo al concetto di efficienza, per questo ho inserito nella prima slide tutto un discorso relativo all'efficienza allocativa. Il problema vero non è tanto la crescita incontrollata della spesa e di alcune voci della spesa, poi ci soffermeremo, in particolare vedrete la spesa farmaceutica, ma è un problema di come utilizziamo le risorse per fornire i servizi necessari nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Anche qui bisognerebbe aprire un capitolo importante, ad esempio riferito alle cure innovative. La spesa sanitaria pro capite inoltre risulta anche in linea con la media oxe, però a partire dal biennio 2002-2003 si è registrato, e questo è l'aspetto preoccupante, un costante aumento della componente privata della spesa, particolarmente per la farmaceutica. Se andiamo a vedere i dati e così come anche li abbiamo elaborati all'interno anche il rapporto CEIS, nonché qua all'interno del SIC Sanità, se confrontiamo la spesa pro capite farmaceutica e la suddividiamo in pubblica e privata, se la prendiamo nel suo totale siamo al quarto o quinto posto, dietro Francia, Stati Uniti, Germania e Inghilterra. Se però la scomponiamo, spesa farmaceutica pro capite pubblica e pro capite privata, la pubblica scende all'ottavo o nono posto, la pro capite pubblica. E la privata negli anni invece è cresciuta, quindi in realtà non è che c'è stato un controllo eccessivo anche della spesa o comunque degli interventi che hanno portato a una riduzione della spesa, è stato uno shift dal pubblico al privato e questo anche è un aspetto importante, perché? Perché il finanziamento privato costituisce un quinto del finanziamento totale e l'83% di questa quota corrisponde ai famosi pagamenti out of pocket delle famiglie di cui hanno parlato i relatori prima di me. E questo è un importante spunto di riflessione, quindi più che focalizzare forse l'attenzione come sempre si è fatto sulla spesa pubblica, io lo focalizzerei sull'organizzazione e l'efficienza del sistema pubblico, per quanto riguarda la spesa dovremmo focalizzare maggiormente l'attenzione su quella anche privata che sempre spesso viene dimenticata e che invece ha degli effetti dirompenti anche sulla ricchezza delle singole famiglie, le cosiddette spese catastrofiche. Le spese catastrofiche nel nostro Paese, vengono definite così a livello di teoria economica, sono molto importanti. Vedete, rappresentano circa il 4% delle famiglie viene colpito da queste spese catastrofiche. Quando secondo l'Ocse la spesa privata sostenuta non dovrebbe superare il 40% della capacità di pagare delle famiglie, queste famiglie qua stanno ben al di sopra di questo 40%. Sebbene, attenzione, siano titolari di un diritto di copertura pressoché integrale dei propri bisogni sanitari. Questa quindi è una quota troppo elevata della propria capacità di pagare e questo porta a un impoverimento di quelle famiglie che chiaramente partono da redditi medio-bassi o bassi. Quindi non stiamo parlando delle pensioni basse o quant'altro, proprio di famiglie, nuclei familiari si analizzano che hanno questa caratteristica. Chiaramente il disavanzo risulta più grave nelle regioni del centro-sud, in particolare Lazio-Sicilia in Campania, come anche il dato è stato anche confrontato con quanto avevamo analizzato all'interno del rapporto CEIS. Quindi entrando ancora di più nel particolare, la spesa ospedaliera è stata nell'ultimo decennio oggetto di grandi attenzioni per quanto riguarda la riduzione dei costi. Questo però ha inciso in maniera molto forte sulle politiche regionali per quanto riguarda la riorganizzazione delle strutture e non ripeto quanto già è stato sottolineato precedentemente anche dal Presidente Messina. Ma in particolare è interessante analizzare la complessità dei ricoveri e si evidenzia come la distinzione tra nord e sud continua sempre ad aumentare. Quindi segno evidente che gli interventi in termini di modelli organizzativi e di riduzione delle risorse o comunque dei tagli troppo lineari non hanno certo ridotto questo divario che caratterizza le regioni del nord a quelle del sud. Inoltre la riduzione dei posti letti è accompagnata da un incremento molto elevato di de'ospital e dei sargeri pur registrando però nuovamente delle forti differenze a livello regionale. Osservando poi inoltre la ripartizione della spesa sanitaria tra i macro livelli di assistenza. Continua e qui tocchiamo un aspetto che è stato accennato anche dal Presidente Scacca Barozzi e anche dai relatori precedenti. Continua a risultare evidente una progressiva riduzione della quota destinata alla prevenzione. Io sono nella mia attività di ricerca negli ultimi 6-7 anni abbiamo fatto molti studi sulla prevenzione, molti studi sui programmi di prevenzione, screening, vaccinazioni e quant'altro e sempre più mi sono convinto analizzando i dati reali che potrebbe essere uno strumento importantissimo per migliorare l'efficacia degli interventi e allo stesso tempo anche nel medio lungo periodo garantire un'allocazione corretta di risorse e forse anche un risparmio, anzi certamente anche un risparmio nel medio lungo periodo. Purtroppo gli obiettivi di alcuni decisori sono sempre obiettivi del medio e brevissimo termine e quindi non sono disposti a intervenire a finanziare programmi di prevenzione perché i programmi di prevenzione hanno una caratteristica molto importante, richiedono degli investimenti ingenti nel brevissimo periodo e poi chiaramente il ritorno ce l'hai nel corso degli anni e quindi molti non sono disposti a effettuare questo tipo di operazione. E ricordate questo è un dato molto grave, noi l'abbiamo monitorato negli ultimi 7-8 anni, per quanto riguarda la prevenzione umana, la spesa per la prevenzione umana in Italia noi siamo a livelli molto bassi, siamo intorno all'1,2% contro l'1,7% della Francia, il 3% della Spagna, il 7% degli Stati Uniti e il 9% del Canada e il dato è confermato anche dalle analisi che abbiamo effettuato all'interno del rapporto CEIS. Quali sono le conclusioni principali? Sono due in particolare ma questa è la conclusione diciamo più relativa ai dati che sono presenti anche sul SIC Sanità e i dati in Sanità in generale di cui abbiamo parlato. La seconda è un po' una proiezione di quale potrebbe essere l'impatto stando a bocce ferme con quanto per ora è stato presentato in termini di legge finanziaria per quanto riguarda la sanità. Vediamo la prima conclusione. Sicuramente che la spesa pubblica possa ridursi in modo significativo rispetto al PIL è in controtendenza rispetto agli andamenti internazionali e questo è quello che appare a seguito anche delle recenti manovre e dei dati che abbiamo visto precedentemente perché in realtà si dice è aumentata ma come vi ricordate è che il PIL non cresce e quindi il rapporto ci porta un dato di crescita della spesa sanitaria sul PIL. Quindi appare lecito dubitare che avvenga questo ma appare più probabile che i cittadini debbano mettersi anche purtroppo le mani in tasca nuovamente per pagare maggiori ticket quindi maggiori prestazioni auto pocket e per pagare con tasse regionali disavanzi delle singole regioni. Per mantenere quindi i livelli di spesa tanto pubblica quanto privata, quelli attuali che si attestano spesa sanitaria totale intorno al 9% del PIL, le famiglie da un calcolo che abbiamo effettuato all'interno del nostro centro anche col collega Spandonaro, le famiglie direttamente e indirettamente dovranno sborsare circa 10 miliardi quindi circa 500 euro anni a nucleo familiare, qui torniamo al discorso dell'impoverimento delle famiglie e non del singolo individuo, a nucleo familiare per sostenere queste cosiddette spese catastrofiche. Vi ringrazio.